Ci sono tre pratesi campioni d'Italia di football americano. Damiano Vitti e Riccardo e Andrea Giacchin hanno vinto l'Italian Ball con i Guelfi Firenze, superando nella finalissima a Scudetto, giocata allo stadio dall'Ara di Bologna, i Seamens di Milano. Abbiamo scelto i Guelfi perché a Prato non ci sono squadre. Poi questo sport ci ha portato da quando eravamo 15-16 anni abbiamo deciso di fare questo sport e il football, l'unica squadra che c'è qui in Italia o qui in Toscana è a Firenze, quindi per quello. Una vera e propria impresa quella dei Guelfi Firenze che hanno rovesciato il pronostico, superando i favoriti milanesi della Seamens. Finalmente, sono anni che si prova ad arrivare in finale, tre anni fa si arrivò in finale ma si è persa all'ultimo. Quest'anno ci siamo detti, all'inizio d'anno, l'unico obiettivo era vincere e ci siamo riusciti, siamo tutti contenti ma si pensa già all'anno prossimo e a rivincere l'anno prossimo. Quindi non è finita ma è solo l'inizio di una grande avventura per i Guelfi. C'è anche un po' di Prato nella vittoria tricolore dei Guelfi Firenze nel campionato di football americano. Finalmente siamo riusciti a portare a termine un sogno che speravamo di riuscire a farlo e diciamo che abbiamo scritto la storia dei Guelfi nel football americano. Siamo davvero contenti perché anche con il ritorno di The Coach Brails, che grazie a lui siamo davvero riusciti a portare avanti un obiettivo prefissato già da inizio campionato. Insomma, Prato sa anche giocare a football americano. È il caso di dirlo, oh yes!